In occasione del centenario della scomparsa del grande scultore nisseno Michele Tripiciano sarà inaugurata venerdì 11 ottobre alle ore 18.30 al museo a lui dedicato all'interno di Palazzo Boncada, sede della Proloco, la mostra intitolata I disegni di Tripiciano. Il museo che già ospita le opere e i calchi dell'artista per l'occasione è stato arricchito con l'esposizione di disegni, tele e altri oggetti inediti a lui appartenuti, provenienti da collezioni di privati. È una mostra straordinaria perché siamo riusciti a mettere insieme, attraverso vari canali, l'apporto di tante persone generosissime, siamo riusciti a mettere insieme una straordinaria collezione di opere per la maggior parte poco note o addirittura inedite di Tripiciano. Le sale sono state organizzate con tre temi particolari. Il tema della fama e ci sono oggetti e ricordi del periodo d'oro dell'opera di Tripiciano. La sala dedicata allo studio dove ci sono disegni giovanili e bozzetti, studi veri e propri, dove si vede come il disegno era la parte iniziale della progettazione di un'opera di Tripiciano. E la sala invece dedicata alle radici dove troviamo delle cose particolarissime come il letto di Ferrobattuto che Tripiciano stesso dipinse o queste opere che lui dipingeva qui a Caltanissetta e che erano nella sua casa. grandi tele dipinte ad olio ci fanno scoprire un Tripiciano inedito di cui non conoscevamo veramente il valore. Io sono molto contenta che i proprietari di queste opere li abbiano messi in mostra in questa occasione e sono veramente grata a tutti loro e spero che la città risponda a questa iniziativa.